Sì, il merito è anche grazie al ministro che ha creduto in me fino all'inizio dell'anno e mi ha dato una mano come tutta la difesa. Poi essendo il mio ruolo mi dava giusti movimenti, giuste posizioni del corpo, quindi è un gran merito anche suo. L'anno scorso dicevano magari bravo nella spinta, ma alcune in fase difensiva penso di aver migliorato, non del tutto perché ancora bisogna, devo dimostrare ancora tanto, però penso di aver migliorato qualcosina in fase difensiva. Quando ho deciso di venire, di essere tutore pescare comunque ero molto contento, sapevo della fiducia del mister che è fondamentale, dell'ambiente tifosi, anche come società sapevo che era una grande società e quindi non me l'aspettavo comunque che magari il Verona ritrocedesse in Serie B e noi magari possiamo arrivare in Serie A, quindi è stata una scelta che sono stato molto contento. Penso che noi quest'anno stiamo facendo un gran campionato, speriamo di arrivare comunque terzi, venerdì sera speriamo anche che ci sia un gran pubblico, che è fondamentale arrivare terzi. Penso che, come ho sempre detto, dipende tutto da noi, come dice anche il mister, se noi giochiamo come sappiamo giocare e penso che non ci sia per nessuno, come ho detto, anche se comunque ci sono squadre molto attrezzate come Spezia, Cesena, ma anche il Bari, ma tutte quante. Noi dobbiamo cercare sempre di allenarci bene e cercare di dare il massimo al sabato e cercare di arrivare in fondo. Siamo molto contenti tutti, ma anche vedo rispetto all'anno scorso, i tifosi sono molto compatti, uniti e penso che lo scorso settimana sia stato il record dei spettatori al derby contro il Lanciano. Siamo fiduciosi, abbiamo una grande voglia di arrivare in Serie A, di lottare su ogni pallone e di vincere ogni partita.